Cagliari può nuovamente abbracciare l'area verde di Via Eloi d'Italia. Alla presenza del sindaco Paolo Truzzu e del vice sindaco e assessore della pianificazione strategica e verde pubblico Giorgio Angius è stato restituito alla città uno dei suoi luoghi simbolo. Il giardino di circa 900 metri quadri si inserisce nel piano manutenzione su aree verdi degradate in città. Finora era un'area incolta utilizzata come parcheggio. La spesa complessiva per l'intervento è di circa 140.000 euro. La gara è stata giudicata a marzo 2021 e i lavori iniziati a maggio si sono completati nei giorni scorsi. Il giardino, ha detto il sindaco Paolo Truzzu, nasce dall'esigenza di creare uno spazio verde dedicato ai bambini e agli anziani, ma allo stesso tempo di garantire i parcheggi per gli abitanti del quartiere. L'amministrazione funziona quando è capace di raccogliere le stanze e i suggerimenti dei cittadini, come è avvenuto in questo caso a seguito della segnalazione di un abitante del quartiere. A volte bastano anche delle piccole proposte per risolvere problemi quotidiani che consentono alle persone di poter migliorare la qualità della loro vita. La nuova area verde è una superficie suddivisa tra una zona esterna riservata a parcheggi, uno stallo riservato a persone diversamente abili, uno stallo rosa, due stalli per motoveicoli, uno portabiciclette, 15 stalli per autovetture e una zona interna delimitata da una recinzione metallica minimale e coperta esteticamente da specie vegetali.